Ciao a tutti ragazzi Io mi chiamo Siamo su TikTok Io mi chiamo Siamo tra ti roba 460 No 4067 Voi dovete Ogni volta che io farò un video su TikTok Lo metterò pure Qua su YouTube Io adesso L'ho pubblicato uno Vedete se vi piacere Lo schocare le storie Ciao